Diventa quasi un po' monocono questo nostro intervento perché la partecipazione con l'amministrazione è ormai dura da decenni in tutte le varie forme, le varie manifestazioni, lo facciamo con molto piacere e ovviamente pensiamo anche di avere dei ritorni perché è noto il nostro corpizio di vendere le automotiche e quindi proseguiamo su questa strada. Grazie. Grazie.